Ciao ragazzi, questo video di allenamento non ha bisogno di moltissime spiegazioni se non quella che state vedendo Una giornata stupenda, un mare stupendo, io mi sono già allenato Se proprio ti interessa questo posto si trova in Calabria Crotone, occhi al timer che sta camminando, un tappetino, un telo, una bottiglietta d'acqua E oggi alleneremo gli addominali, ciao 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 Ciao